Ce la fa Sam Doria, soprattutto fino a pochi secondi fa stava mangiando la sciarpa, quanto era amara quella sciarpa che porta al col? Ma la sciarpa era molto dolce perché mi piace l'arcobaleno e mi piacciono i colori. Posso solo dire che abbiamo fatto una grande prestazione, siamo stati superiori totalmente al Napoli e io posso dire che questi ragazzi si meritavano i tre punti tutti quanti. Meritavamo una grande vittoria, però come dite voi il calcio è questo e vado a casa mezzo infartuato perché ci ho creduto. L'importante non sia totalmente mezzo, insomma si può ancora rimediare. Si può definire cinematografico questo pareggio proprio da una parte c'era lei dall'altra la squadra di De Laurentiis e quanto ci avrebbe tenuto a battere la squadra di De Laurentiis? Secondo me l'ho battuta sul campo la squadra perché avete visto tutti voi con i vostri occhi undici leoni in campo e Aurelio con grande fortuna e come si è fatto nel film di Natale ha incassato un punto e va a casa felice. Ero molto contento, se andavo a casa a due minuti alla fine un po' sudato. Un'ultima per quanto mi riguarda, poi ci sono le curiosità dello studio. È possibile vedere Cassano qui a gennaio, un regalo di Natale posticipato? Un ritorno di Cassano alla Sampdoria, però voi vi siete anche parlati. Io voglio molto bene a Cassano ma questo qui da negre a lui. Marco? Bene Presidente, vedo che prevale la soddisfazione per aver visto ancora una volta la sua Sampdoria giocare bene. Marco non c'è, è andato via. No, vuole Laura non c'è. Marco non c'è, di Laura Pausino, la solitudine, grande citazione. C'è il medico qua che ci guarda, tranquillo. Mi sa che dovrebbe intervenire subito. Marco? Sì? E' un senco, cosa dici? No, credo che non ci sia poco da sentire. No, non sapevo che sapesse cantare anche. La ringrazio Presidente. Grazie. Marco ti saluto. Comprate qualche microfono perché non si sente niente. Allora è davvero che non si sente. Grazie, grazie mille. Forza Sampdoria Marco. Sì, sì, va bene. Abbiamo dominato. Grazie. Per 90 minuti ci ho creduto e ci rifaremo la prossima volta. Grazie al nostro cuore e al fondo schiena d'Aurelio. Un punto per uno, non fa male a nessuno. Grazie Presidente, grazie. Mi sa che mi schiato, Laura non c'è.